Sono contenta di avervi qui alla mostra, i preparativi sono ormai belli che andati, io vi aspetto a Palazzo Lancellotti a Casalnuovo, la serata sarà una serata particolare perché la mostra che inizierà con il Bernissage alle 19 e durerà tutta la notte, tutta la sera fino a dopo mezzanotte, contemporaneamente alle 21 ci sarà una sfilata, quella di Miss Italia che sarà chiusa poi con una passerella di abiti di una mia amica cara, stilista che è Rosa De Giulio e io per questa mostra devo ringraziare sicuramente l'assessore Biagio Vallone che mi ha voluto far partecipare con i miei quadri. Sono felice, vi aspetto tutti, spero ci siano delle sorprese stasera con ospiti, musicisti e artisti vari. Sarà una mostra innanzitutto è una personale, quindi un po' una carrellata dei vari quadri e dei vari periodi, ci saranno i rossi, quelli conosciuti, quelli del periodo del calcio e poi quelli del vulcane e crateri che sono delle opere che hanno una lavorazione sulla tela, quindi una tela che è bucata ma sostanzialmente il supporto non è mai vuoto, per cui c'è una lavorazione, uno studio di fondo.